Eccoci a Senza Sconti, la trasmissione che non fa sconti a nessuno e che non le manda a dire a nessuno. In questa puntata abbiamo il piacere di ospitare Viola Valentino, grazie per essere con noi Viola, come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Non sarai mica intimorita? No! No! Per carità di Dio. Ma aspetta di tutto però. Aspetta di tutto ma puoi solo star tranquilla. Nata a Canzo, una vera e propria icona della musica italiana, ha sfondato con il singolo che tutti conoscono, Comprami, tuttora ha suonato in buona parte delle discoteche italiane, una carriera fatta di mille esperienze, attrice di cinema e di fiction. Dopo ti faccio una cosa su quello. Modella, anche due copertine di Playboy, televisione, persino reality show Music Farm, una donna definita da tutti controcorrente, che noi abbiamo scelto per la nostra trasmissione perché non ha peli sulla lingua e che quindi non le manda a dire a nessuno, si è dedicata persino a questo proposito una canzone, titolo Stronza. Ecco, quindi meglio di così era il personaggio giusto per la nostra intervista ed è il personaggio giusto per la nostra intervista. Tra i suoi ultimi lavori, adesso vediamo le copertine assieme, Rose e Chanel, eccolo qua, e poi adesso potete trovare tutte le sfumature di Viola che è online, giusto? Sì, questo qui, le sfumature di Viola, viene venduto online, mentre l'altro è anche nei negozi, per quanti negozi siamo potuti rimanere, perché la discografia è un attimo in crisi. Sì, sono tutte e due importanti, diciamo, le sfumature di Viola sono cose che la gente ha chiesto e quindi è stato fatto per questo, sono brani ricercati dai fan che magari non sono stati messi da nessuna parte, invece è il The Best, quello Rose e Chanel che abbiamo visto prima e quello è importante perché ci sono nove unplug, chitarra voce, piano voce, ribetuto. Diciamo, i tuoi successi anche un pochino... Sì, non è proprio... ecco, anche, però non è proprio... è una specie di inedito in realtà, non è un... ripercorre tutto il cammino perché non posso escludere delle cose. È giusto. Allora, pronta per la nostra sfizia di domande? Comincio subito, visto che hai detto che i negozi chiudono, qual è lo stato di salute della musica italiana? È un malato grave, è un morto? Terminale. Malato terminale? Terminale. Perché? Terminale non lo so perché, io penso che sia colpa di tante cose, soprattutto della distribuzione che fa qua tutte le parti e poi penso che non ci sia assolutamente più palinsesto televisivo e radiofonico da poter permettere di ascoltare e quindi comprare anche un artista, diciamo che adesso, come adesso, la gente scarica, sente, è distratta e... Quindi è colpa anche del pubblico, dici, dello stato di salute della musica dipende anche da una parte del pubblico. Certamente, anche della rete. Certo. Che a noi tanto serve, ma che a noi tanto dà fastidio. Viola Valentino è una cantante del passato, del presente o del futuro? Tutte e tre. Passato, perché comunque il passato non ce l'hai e quindi se ce l'hai non te lo puoi togliere di dosso. Presente, perché comunque sono una persona iperproduttiva anche materialmente, discograficamente. Futuro, perché comunque non ho intenzione di mollare il colpo. Non molli il colpo. E beh, questo è importante, soprattutto per i tuoi fans. Quindi hai già in mente cosa fare nel futuro. Certo, io sto già facendo produzioni. Non ti fermi mai. Torneresti mai al Festival di Sanremo? Sì, ci tornerei con coscienza e di conseguenza sarei terrorizzata, perché i primi due festival di Sanremo che feci furono due festival da giovane incosciente, quindi non sapevo esattamente dove mi trovassi, in che situazione. Ho vissuto il festival con molta incoscienza. Comunque arrivai sesta, con Romantici. Mi ricordo quell'anno c'era anche Vasco, che arrivò ultimo. Ultimo, quindi? Ultimo. E si è visto come è andata poi per Vasco. Ecco, quindi meglio gli ultimi. Tornerei ma con coscienza. Sì. Allora ti chiedo una cosa, visto che tu hai nominato proprio Vasco, la canzone che vince il Festival di Sanremo è sempre la più bella? No. No, 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 assolutamente. Per assurdo no, assolutamente no. Ma chi decide il vincitore? È tutto così regolare secondo te? No. No? No. Come no? Secondo me no. No, perché comunque va bene, ne ho viste, ne ho sentite. C'è un imbroglione, un truffone? Ma c'è qualcosa che non funziona bene, ma in tutte, anche dove fanno il televoto, eccetera, eccetera. Forse gli unicionesi siamo stati noi dell'82, l'83 perché c'era il totip, eravamo collegati con il totip e quindi non si poteva scherzare. Però io penso che comunque la canzone non è mai la più bella, che ci sono delle canzoni molto più belle. Di solito è quella che vince il premio della critica, la più bella. E poi... Magnano, imbrogliano. Ecco. Senti, Matteo Renzi come Presidente del Consiglio, che Presidente del Consiglio è secondo te? Non mi piace. Perché? Non lo so, non mi piace, è troppo toscana, troppo... Io sono d'origine toscana. Ma io non... Allora, la realtà è che io non ho un leader che in questo momento mi rappresenti, perché sono leggermente anarchica, cioè non ho nessun partito, nessun leader politico. Ma quindi sei andata a votare l'ultima volta? No. Da quanto tempo non voti? Da quando mi sono seccata dell'Italia che sta morendo. E quindi, secondo me, quei 3 milioni di non votanti, quei 5 milioni credo di non votanti di questa volta, sono delle piccole voci nel buio che fanno capire il dissenso che hanno gli italiani in questo momento nei confronti della politica e dei politici, dei partiti, dei leader che non sono più dei leader. Tu fai parte di questo dissenso, allora? Sì, faccio parte... è una contestazione silenziosa. Ma tra i due... Io vorrei che, alle prossime elezioni, quando ci saranno, se ci saranno, se non moriremo prima tutti con una bomba atomica che ci attireranno a qualche paese, che nessuno andasse a votare. Per protestare proprio contro il sistema politico italiano che è... io non so parlare di politica, sono sincera, ma secondo... quindi diciamo che in questo momento io sono una donna del popolo e come donna del popolo ti dico che il sistema politico italiano non... 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 non mi piace, sono tutti... Non ti può rappresentare. Ma tra i due Mattei, cioè Matteo Renzi e Matteo Salvini, che adesso anche Berlusconi ha individuato come futuro magari leader del centro-destra, chi preferisce o chi... chi potrebbe far meglio? Non lo so, perché in questo momento non... Matteo Salvini non lo conosco così bene ancora, non... mentre Renzi l'ho intravisto, visto, telegiornali, qualche... intervista, qualche... qualcosa... l'altro non lo conosco molto bene. Secondo me dovremmo proprio aprire un cassetto e metterci di tutti dentro e ricominciare da capo. Ricominciamo da capo, è il messaggio di Viola Valentino. Senti, diciamo prima il brano Comprami, che tu hai fatto la battuta subito, allora te lo chiedo. È stata la tua fortuna o è stata la tua rovina. No, è stata la mia fortuna, perché se non ci fosse stata Comprami, non starei qui con voi, su questa bellissima sedia nera. Però, che anzi me la dovresti regalare, perché mi piace. Vediamo a fine produzione cosa si può fare, se te la possiamo mandare. Però, nello stesso tempo è stata la mia croce, perché comunque dopo 35 anni che canto, e dico, fino a quando reggerò per poter cantare Comprami, che è anche una canzone un po' ambigua, un po' particolare, un po' tra le righe da leggere, insomma. E allora ti faccio una domanda ambigua. Sei mai stata comprata in qualche modo? No, non mi sono mai venduta. Cioè, mi sono venduta con la canzone. Forse sono stata comprata cantando Comprami, ma comprata in altri... Ma c'è qualcuno che ha mai provato a comprarti? Tanti. Tanti. Chi e in che modo, se si può dire? Ma uomini, certamente, e soprattutto adulatori, come si può dire corteggiatori, ti faccio questo, ti compro quello, ti faccio diventare... no, non mi sono mai... posso dire prostituita? Sì. Il senso buono. Il senso buono, ovviamente. Ho sempre fatto tutto con le mie mani. Sono stata anche fortunata, perché comunque, diciamo, le persone che volevano comprarmi, poi a fin dei conti mi volevano comprare perché volevano che io fossi magari la loro fidanzata, la loro moglie, la loro amante. Però, ecco, ci sono molti artisti, artisti anche maschi, che si sono o si venderanno. Ecco, o si sono o si venderanno. Secondo me scendere a dei compromessi nel nostro lavoro non va bene. Non ha portato buono. Però la canzone Comprami, alla fin fine leggendo il testo, è tutta tranne che, diciamo così, provocatoria, perché una parola, un gesto, una poesia, mi basta per venire via, dillo tu. Ecco. Come dire che il romanticismo è la strada migliore per conquistare una donna. È così? Ma come sei intelligente? Ho studiato. È l'unico che l'ha capita, perché qui tutti quanti pensano... Le femministe nel 1979... Sono cazzate. Uuuuh, madonna, sembrava che la donna oggetto, quella che sta sul manifesto, a chi si crede di essere, è bella, pensa di essere... Chissà che cosa... Proprio mi correvano dietro. Nessuno ha capito che poi il fin dei conti io mi vendo, mi vendo per un po' d'amore, una poesia, un gesto... Quindi il romanticismo è l'unico strumento... Romanticismo. Ma vale anche per te nella tua vita privata? Cioè il romanticismo è quello che ti conquista? Sì, il romanticismo è quello che mi conquistava. Adesso sono cresciuta e sono un po' meno romantica, diciamo. Ecco, e molti non hanno capito il testo dei romantici, invece. Perché tutti sono convinti che i romantici siano i romantici, nel senso della parola. In realtà i romantici sono i disperati, sono... È molto sociale i romantici. Guarda la nostra domanda dalla redazione. Qual è la proposta più indecente che hai ricevuto? L'abbiamo detto prima che ne hai ricevute. La più indecente. Puh. E diciamola. Ma no, vabbè... Il corsaggiamento da parte del marito di una mia carissima amica, che non posso fare nomi, però... Sì. Ho ricevuto una proposta indecente da lui. Il marito di un'amica. E al marito dell'amica tu cosa hai risposto? Che ero troppo amica di sua moglie. Quindi meglio amica... Anche se mi piaceva come uomo. Quindi hai prediletto l'amicizia con questa tua amica piuttosto che... Una storia importante e anche, diciamo, molto facoltosa. Ah ecco. Che avrebbe reso molto. Sì. Senti, le donne in politica, ma anche nella vita lavorativa, per far carriera devono darla via? Scusami questo termine. Allora, abbiamo parlato fino adesso di quello. Secondo me la danno via. Quelle... Secondo me... Quelle che sono nel giusto non dovrebbero. Cioè, secondo me, darla via per far politica o per fare lavoro in generale non è corretto perché poi dopo... Però succede. Sì. Ma purtroppo è frequente. Ma la carriera poi c'è? Secondo me ci sono... Allora, se la donna è furba la carriera poi c'è. Magari con dei passi un po' più lenti. Però ci sono state anche delle persone che io ho conosciuto personalmente che si sono date le mazzolate sui piedi da sole proprio perché hanno ceduto a queste buzinghe. Ti faccio una domanda ancora più provocatoria. Secondo te Francesca Pascale è la donna giusta per Berlusconi? Cioè, ci sono questi 50 anni di differenza tra le donne. Quella ragazzina? Sì. Lei ha 29 anni e Berlusconi abbiamo... Io sono l'ultima che deve parlare in questo periodo perché... Magari arrivo anche io quella domanda. Ecco. E rimaniamo su Berlusconi, secondo te? Ma io penso che... Sono sincera, secondo me no e lei non lo ama, certo. Adesso magari mi prenderò una denuncia però... Secondo me non puoi... Cioè, sì, come suo padre... Nonno. Come, come suo padre, come... Beh, allora, scusa, dicevi... Io non posso parlare in questo momento. Infatti, sono l'ultima che deve parlare. Noi sappiamo che tu hai un fidanzato giovanissimo. Io chiedo scusa a Francesca perché comunque stiamo giocando un po', no? No, però... Dicevo... Eh, ecco... C'ho un fidanzato... Giovanissimo. Di 30 anni meno di me, quindi voglio dire... Ti sei mai sentita a disagio per questa cosa? Mi sento a disagio continuamente, soprattutto quando pensano che io sia la madre. Addirittura? Certo, perché succede. Beh, scusami un attimo. Se il tuo fidanzato lo chiamano toy boy, come si usa oggi, tu ti offendi? O cosa rispondi? No, mi offendo perché toy boy è un brutto termine. Non è così bello come sembra. No, non sembra. Ragazzo giocattolo. Significa... E tu cosa rispondi? Quando dicono così o scrivono così, per esempio? No, lo dicono, io poi rispondo delle volte che non è un toy boy, perché comunque è un uomo di 33 anni e quindi è un uomo che ha avuto una sua vita, che ha una figlia, che di conseguenza lo considero... Quindi mi offendo... Mi sono persa di... Non ti offendi, quindi... Cosa rispondi se ti dicono, vedi che la cosa ti tocca di prima in persona? Cosa rispondi se gli danno del toy boy? Mi dà fastidio, non rispondo, però mi dà fastidio perché... perché toy boy? Allora perché non toy girl? Scusa, perché esistono i toy boy e non esistono le toy girl? E magari la Pasquale è una toy girl. Eh... Eh... Ma tra voi, se posso permettermi, è più amore o più sesso? E divento irriverente anch'io? Più amore. Più amore. Sì, non siamo due sessuomani, nessuno dei due. Se dovessi scoprire un tradimento da parte di questo compagno così giovane... Gli taglio la gola. Come gli taglio la gola? Gli taglio la gola. Sei gelosissima? No, allora io sono gelosa nel giusto. Allora, se una persona decide di stare con una persona più grande, deve essere corretta. E poi io sono corretta, io non sono una traditrice. Ah. Di natura. Ho capito. Sono sempre stata tradita, purtroppo. Eh, infatti, adesso ti faccio... Forse ho anche qualche domanda su quello lì. Ma tornando a Berlusconi, scusami. Pensando all'assegno... Perché ce l'hai tanto consiglio? No, perché ha visto una vita molto particolare. Che non conosco personalmente. Una vita molto particolare. Pensando alla sua ex moglie, Veronica Lario, che ha un assegno molto corposo. Molto. Secondo te Veronica Lario è una mantenuta oppure una donna che ha sofferto? È una donna che ha sofferto e che fa valere i suoi diritti. Fa bene, quindi? Fa benissimo. Quindi non è un po' troppo questo assegno? È troppo nei confronti di tante altre donne che o non lo prendono addirittura o ne prendono uno minimo, piccolissimo. Però dipende dal portofoglio del marito. Ancora la nostra redazione irriverente chiede che cosa ti sei rifatta. Rimani bellissima anche adesso? Allora, io giuro su Dio, giuro in giuretta. Sono qua. Non mi sono rifatta nulla. Infatti casco un po'. Non è vero. No, casco un po'. Questo è captazio benevolente, Viola, faccelo dire. Comunque. Non mi sono rifatta nulla. Nei seni sono i miei. Saresti pronta a rifarti qualcosa oppure dici? Sì, allora, io ho paura dei bisturi, delle anestesie, di queste cose qua. Ho paurissimo. Ho visto delle cose orribili. Certamente le labbra acquanotto, queste cose qua, non sono il mio forte. E ho paura. Sì, però se dovessi vedere il crollo della diga, proprio quello definitivo... Più avanti, dai, più avanti. Più avanti. Sì, certamente magari una mutilatina. Senti, sei stata... Ce la fanno anche i maschi, dai. Sei stata per ben due volte sulla copertina dell'edizione italiana di Playboy. Bello. Se te lo riproponessero, adesso, sai che molte donne, anche diciamo così, nel fiore degli anni, vengono scelte per posare per Playboy. Tu lo rifaresti? Certo che lo rifarei. Qual è il problema? Eh, no, lo chiedo a te. No, io lo rifarei, perché comunque... Cioè, chiaramente, anche quando feci il mio Playboy, fu un Playboy che ricevette delle polemiche, perché non si vedeva poco. Eh, si vedeva troppo poco. Si vedeva troppo poco. Si vedeva troppo poco. Però lo rifarei con classe. Ecco. Anche il calendario della Pirelli lo farei. Senti, chi è Patti Bravo per te? Una brava cantante, come persona non la conosco. Comunque mi piace molto come canta, mi piacciono le sue canzoni. Punto. Poi... no, perché punto. Poi è stata la fidanzata di mio marito. Ma non ce l'ho con lei. No, infatti, la domanda che volevo farti è questa, ma credo te l'avranno fatta in milioni. Ma sai, col passare del tempo, magari uno cambia anche idea. Sei mai arrivata a perdonarla per aver, diciamo, avuto una relazione con tuo marito quando eri sposata? Ma lei, quando lei ebbe la relazione con Fogli, eravamo tutti dei ragazzini. Direi che mi ha dato molto, molto poco fastidio, perché io ho preso le mie varigine, sono tornata da mamma, perché avevo 19 anni, sono più giovane di lei. Quindi, vuol dire, non ho sentito questa cosa, matrimonio, rovinato. Anche perché, non so, forse c'era dentro il sentimento che sapeva che sarebbe tutto ritornato indietro. E così è stato, infatti. La vita non me l'ha rovinata, fatti, però, sentimentalmente, se vogliamo parlare di rovina, perché poi la vita è un gioco, una grande ruota, si scende e poi si risale, eccetera. C'è stata una seconda donna che è stata molto più importante, lì ho sofferto di più. Chi era questa? La Stefania Brassi, che è una mia amica, peraltro anche lei, che saluto, ciao Stefania, non sto a parlare male di te. Dico solamente, qui in quel momento ero più cosciente, ero coerente, ero diventata una donna e sapevo che mio marito aveva avuto un figlio da questa. Quindi la rovina totale. Era ben peggio. Eh. Ma nella vita hai più tradito o sei più stata tradita? Secondo me so so. Così e così? No, so so sì. Un po' e un po'. Un po' e un po', come dicono a Miami. Eh, però, appunto, dici che senza peccato scagli la prima pietra. Ecco, appunto. Ecco. Io, cioè, ognuno di noi ha il proprio peccato. Io sono sempre, allora, traditrice no, però civetta sì. Ma il tradimento si può giustificare? Se è quello di una notte sì, secondo me. Se è quello di un periodo no. Quindi per una notte sì, per un periodo no. Non si può giustificare. Vediamo se la nostra redazione ci manda l'altra domanda che hanno preparato per te. Guarda. Viola Valentino è una stronza? Sì. No, aspetta. L'abbiamo detto prima che è una dei tuoi successi. Sì, sì. Sempre viene diffuso in discoteca. Ma perché sei stronza proprio? No, allora, anche qui vedi c'è un po' frainteso perché io mi do della stronza nella canzone perché sono fragile nei sentimenti e quindi la canzone dice delle cose chiare. sono stronza perché nonostante tutto quello che è accaduto sono ancora qui che spero che tu ritorni eccetera eccetera con delle parole magari un po' toste però insomma mi autodò della stronza perché effettivamente poi lo sono nei sentimenti. però sono nei sentimenti o anche nel resto? Anche un po' nel resto anche nelle amicizie nel senso buono però sono quella che se si fa una litigata cerca la riconciliazione se in tutti i sensi con amici con uomini donne. Qual è la cosa più da stronza che hai fatto? Ma stronza vera o stronza? stronza vera? stronza vera? Io non vorrei sembrare Santa Maria Goretti però... Non ti viene in mente? Non mi viene in mente. E allora ti chiedo qual è la cantante più stronza con chi hai avuto a che fare o con cui magari hai lavorato o cantato? Loredana Bertè. Perché? Perché è stronza. Lei è vera però. È stronza vera? Ma in che senso? Ma dai ma alla farm ha fatto finta di non conoscermi. A The Farm? Alla Music Farm si era. Chi è questa? Se lei è la regina e io sono un'imperatrice. Adesso questa probabilmente è Loredana neanche se lo ricorderà più. Quello che mi ha dato fastidio di quella storia lì fu che c'erano delle persone che stavano per intervenire dall'esterno e posso fare nomi e cognomi c'è Mario Lavezzi, Nendi Surdi, tutta la gente che non abbiamo frequentato. La Mimosa e tutta la gente che abbiamo frequentato insieme. Insomma, Marcella Bella. E lei fa... Chi è? Non ti conosco. Andavamo a casa di Lavezzi e faceva il zapping. Stum, 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 stum... Stum, stum, stum... Vabbè, insomma... Vabbè, è stata una stronza. Stronza. Molto stronza. Non ha chiesto manco scusa. Non ha chiesto scusa e non ammette... Secondo me, se mi conosce ti dice di no ancora oggi. Ancora oggi? Oh mamma mia. Senti, ti chiedo una cosa. Quando cambi canale in televisione? Quando vedi una trasmissione di Barbara D'Urso, Maria Di Filippo o Paola Perego? Barbara D'Urso... Come sei cattivo. Eh, lo so. Sono un po' stronzo anch'io. Mi ispiravo alla canzone. Eh, ma no... Eh, vabbè... Scegli tra queste tre. Cambi canale quando vedi Barbara D'Urso, Paola Perego... Paola Perego cos'è che conduce che in questo momento non c'è la testa? Adesso fa domenica in adesso, però le ha fatte tutte. Ah, non ne ho viste. Barbara D'Urso fa il pomeriggio, fa la domenica anche dai pomeriggi. E lo so, lì ci sono andata. Adesso ha fatto il resto. Eh... 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 E dai! E non riesce... Mi... 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 ti ritrovo. Ti chiedi. Ti chiedi. Ah, no no. Sarà dura. Su questo fronte. Su questo fronte l'ho proposto. Diciamo che c'è stata tanta gente che l'ha proposto. Sì, però non ho mai accettato. Ma perché? Non lo so, se sono stata fortunata nella vita o che cosa. Però io non ho mai avuto bisogno di scendere a compromessi. Quando ho voluto fare una cosa l'ho fatta. Punto e fine. E ho lavorato tanto. Si discute molto oggi sulla questione del matrimonio gay. Anche Berlusconi, che abbiamo già più volte nominato, ha dichiarato la sua apertura. Tu sei favorevole? Da sempre. Sono un'icona per i gay e sono una portavoce attiva e quindi di conseguenza non mi piace la parola contratto. Non vedo perché non possano stipulare veramente un matrimonio e non un contratto. Però è sempre stato il mio pensiero questo. Mentre mi risulta che Berlusconi sia un pensiero recente. Meglio tardi che mai, uno potrebbe dire. Però molti dicono sì a qualcosa che somiglia al matrimonio, no, alle adozioni da parte delle coppie gay. Viola Valentino, icona gay, come la pensa? Io penso che dovrebbero poter adottare perché io preferisco un bambino educato da due uomini o da due donne che sono due mamme o due papà o due mamme o un papà. Ci sono sempre dei ruoli anche nelle coppie gay piuttosto che un bambino in un orfanatrofio, in un befotrofio o a morire di fame in Africa. Quindi meglio affidato a una coppia che può volerli bene. Certamente. Ma secondo te gay si nasce o si diventa? E che gli dà un cognome. Gay si nasce o si diventa? Secondo me ci si può anche diventare. Come? Come è possibile? Come è possibile? È possibile. Magari c'è una domanda un po' difficile perché ancora non si sa se sono dei geni che mancano o comunque una sessualità diversa. Però secondo me, vivendo in questa società di bastardi, perché è piena di uomini, di donne bastardi, a un certo punto uno può, dopo delle delusioni d'amore continuative, può decidere di... Quindi può essere anche una scelta, dici? Tu sei mai stata corteggiata da una donna? Sì. Cioè? Che ci racconti? Che ti racconto? Ti racconto che ci sono delle donne che si sono innamorate di me perché comunque, non tantissime, tre o quattro, però intensamente, intensamente, proprio con lettere bellissime, con... C'è stata una in particolare che mi mandava delle lettere che conservo ancora. Donna famosa dello spettacolo? No, no, una donna normale, molto intelligente però... Ma ti è mai capitato, adesso va diventato ancora più riverente, di andare oltre con una donna? No, no, perché sono un etero convinta, però diciamo che se c'è una bella donna la guardo, non sono invidiosa e la faccio notare anche a chi ho vicino. E dico guarda com'è bella quella donna, però oltre non sono... E quindi sei una delle poche, donna brava con le donne, non gelosa delle donne. Non sono gelosa delle donne, se... Insomma, se vedi una donna bella non puoi dire, c'ha questo difetto o quel difetto. Ci sono molte donne che lo fanno. Che lo fanno, appunto. Ma non è... Anzi, diciamo così solito l'usanza. Ecco, non è corretto, secondo me non è corretto. Senti, un altro tuo grande successo, sempre suonato nelle discoteche, mi sa che insieme, non so se è un complimento, insieme a Carrasse è quella più suonata nelle discoteche d'Italia. No, ma è un complimento, ma ci scherzi. Vedi, perché ogni volta che vanno in discoteca almeno una delle tue canzoni è stata buona. Ecco, sono contentissima. Non è un caso. E adoro i gay che mi adorano. È la canzone... Beh, ma in tutte le discoteche di ogni tipo, perché vai al Plazica a Milano, all'All Fashion a Milano, in tutte le discoteche la mettono almeno una tua canzone. Dicevo, questa canzone sempre molto famosa è Sola. Tu ti sei mai sentita sola? Eh, tante volte sì. Tante volte con i pensieri... Sì, qualche volta sì, mi sono sentita sola. Ti è mai capitato di pensare al suicidio? No. La vita è la cosa più bella che abbiamo. Va vissuta intensamente, anche brutta, anche se ti capitano delle avversità, anche se io poi sono figlia di un artista, di un pittore, figurati, abbiamo fatto la fame quando eravamo ragazzini. Però è troppo bello vivere. Cioè, anzi, mi dà fastidio che duri poco. Ah, ecco. Però spesso nel mondo dello spettacolo, ovviamente... Mi è capitato di stare davanti a una parete a guardare nel vuoto e di non sapere cosa mettermi per uscire, perché ero talmente tanto depressa in quel periodo che ero isolata completamente da me stessa, dal mondo, da tutto e sono stata disperata, diciamo. Però il pensiero del suicidio non mi ha mai sfiorato neanche minimamente. E mi fanno tanta tristezza e tenerezza, non voglio dire, le persone che lo fanno. Ma è un dato di vigliaccheria, secondo me, anche nel mondo dello spettacolo abbiamo esempi eccellenti. No, ci vuole un grande coraggio. Fino ad arrivare adesso a Robin Williams, cantanti famosi. Ci vuole un grande... È coraggio? È coraggio? È coraggio? Perché, ripeto, è un gesto, è il limite che una donna possa raggiungere, un estremato può raggiungere. Non sai cosa c'è oltre la vita, quindi è coraggio. Il vigliacco è quello che cerca, sono io, che cerco di vivere il più possibile perché oltre la vita non so che cosa c'è. Quindi tu su questo fronte ti senti vigliacca, dici? Sì. Ho capito. Senti, hai mai fumato uno spinello? Sì. Tuttora o in passato? No, in passato, in passato, quando ero ragazzina, come tutti i ragazzini di 18 anni, o 15 o 16, diciamo, noi in Toscana si dice un pe. Ma sei favorevole alla liberalizzazione delle droghe leggere? Ma sinceramente, allora, a parte che a me non piacciono, nel senso che l'ho fatto, però l'ho fatto sempre avendo paura e quindi non l'ho vissuta bene. Il trip, come si può dire, non l'ho vissuto bene. Quindi non ti ha fatto il bel effetto. Però so che la marijuana, per esempio, è terapeutica. La usano per i malati anche di cancro. Ma oltre alle canne sei mai andata? No. No, onestamente no. Onestamente no perché mi fa paura, cioè, ritorno a un'altra piccola vigliaccheria. Mi fa paura, mi fa paura tutto quello che è, che... Cioè, io devo controllare la mia vita, capito? Quindi, fumo. Sigarette. Ecco, sigarette. Però, voglio dire, e non mi faccio del bene, però io devo essere lucida, non posso non... Tu che hai vissuto tanti dietro le quinte, televisione, spettacoli, musica, gira molta droga? No. No? No. Sinceramente no. Non ho mai visto... Ecco, forse non è una cosa italiana, diciamo. Qualcosa sicuramente qualcuno farà, perché sicuramente ci sono dei personaggi un po' particolari, trasgressivi, però non ho visto tutta questa... Al massimo un drink. Eccessivo di trasgressione. Mamma sì. Allora, siamo arrivati in chiusura, ricordiamo, Viola Valentino, i due album. Ricordalo tu ai nostri telespettatori. Perché compararli tutti e due? Perché intanto sono belli. Rose Chanel. Per risollevare il mercato discografico. Rose Chanel, che è un The Best, con dei inediti dentro. E tutte le sfumature di Viola, che sono delle chicche praticamente, che me l'hanno proprio chiesto i miei fan. Quindi i tuoi fans ti hanno fatto la scaletta delle canzoni praticamente? Praticamente sì. E tu hai, diciamo così, eseguito da buon artista. Tra le canzoni c'è anche una canzone di un artista molto trasgressivo, che a me piace tanto, che si chiama Grignani. Vabbè, lui le ha combinate di tanti, di grosse, sono tutti fronti. La mia storia tra le dita l'ho cantata e mi piace come l'ho fatta. Allora, avete solo l'imbarazzo della scelta, o se no comprateli tutti e due. Grazie a Viola Valentino per essere stata senza sconti. Grazie a voi, sei stato fin troppo buono. Hai visto, te l'ho detto, che ti preoccupavi per niente, invece no. Ci vediamo alla prossima puntata, arrivederci. Grazie. 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 Grazie.